Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale Oggi faremo un nuovissimo video di Toca Ma mi raccomando per iniziare mettete tantissimi like e iscrivetevi Così entrerete a far parte del team chungati Quindi oggi ragazzi faremo un nuovissimo video di Toca Life Appunto perché è uscito il ristorante E nessuno, nessunissimo Eh Sofì, nessuno ci ha chiesto di vedere il ristorante Proprio nessuno nei commenti ci ha scritto Sofì mi raccomando Nemmeno uno E quindi noi siccome non l'avevamo ancora visto abbiamo deciso di vederlo Esatto, quindi adesso iniziamo Sigla Allora Giriamo Gittiamo Ok ragazzi andiamo su Toca che intanto ho aggiornato Guarda ci sono tutti i petalini Ah è venuto la primavera È venuto la primavera Toca, voca La città, la scuola L'ospedale E le palme Allora, eccoci qua Allora Dove dobbiamo andare Sofì? Con il carrellino A fare la spesa? Sì, fare la spesa al ristorante Ah oh Ah, ristorante alla moda Eccolo Ma c'è un cagnolino Eh, sarà lo chef C'è, ci sono due nuove case Quindi credo sia a due piani E nove personaggi Più un crampet Oh oh Già c'è qualche piccolo spoiler No, ma non lo vediamo Diciamo soltanto quanto costa E poi andiamo a vederlo Costa due euro e ventinove Quindi acquistiamo Aspetta, aspetta, lo so No No Diciamo solo Che Sofì non ha ancora visto Assolutamente niente Sì Io non ho ancora visto Assolutamente niente Né un video per vedere i segreti Nulla No, non sappiamo nulla So solo che i ristoranti sono belli Perché si mangia Ecco qua il ristorante Totalmente pronto E adesso andiamo Io inizierei Ha costruito proprio in città, eh? Sì Con il primo piano Giusto? C'è una cosa in davanti? È per i VIP Ma noi siamo super VIP Oh, eccoci Vai tutto Tutto qua? Sì Siamo capiti Allora qua c'è Trigorifero Ecco sì La dispensa C'è anche Ah Hai già trovato qualcosa? No Ma non abbiamo neanche iniziato Occhiali fotonici Allora Sofì Sai che cosa ci siamo dimenticate di prendere? Cosa? Sofì Ah Sì Io Sofì la prenderei Io ci ho Perché quando vedete una grata Dovete sempre aprirla Eh Sofì Vuole scoprire tutti i segreti di Tofì Dove sono? Dove sei? Non lo so dove sono Vediamo un po' Hai trasformato anche me per la cosa? No Dove abbiamo lasciato Sofì? Vediamo un po' Dove mi avete mollata? Dove è finita? Eccola Sofì No, eccomi qua Perfetto Ah, sei già vestita alla moda Oh, qua c'è il librone delle ricette Il menù? Eh, forse Porta tutto il tuo personaggio dall'altra parte e iniziamo Ecco, da fuori Ah, da fuori C'è il sacchetto della spazzatura No Ah, ma siamo entrati dall'entrata di servizio Allora Sofì Oh, wow Sofì Sì, dovete vedere tutto 462 Codice Teniamolo a mente L'abbiamo trovato nella spazzatura Adesso Sofì Esatto 462 era? 462 Mi raccomando, eh Dunque qui ci sono Salve Le cucine Mamma mia Non sono lavapiati Sì Eh, come ti si dice Sofì? Non lo so Lo sguattaro No, dai È che dentro Ah no Guarda che figo Allora, dove Oh, un bottone Bottone Scusate Sì, ma è tutto pieno di segreti qui Un altro bottone Altri bottoni Oh, aspetta Aspetta Niente, abbiamo già trovato tutti i bottoni Questo video sarà lunghissimo Preparateli Ah, vi volevo far vedere Vi volevo far vedere che qua Metti la roba sporca E te la lava Però nel frattempo abbiamo trovato Non le rimettere per terra Se no se li sporcano proprio piatti No, no No, no Nel frattempo abbiamo trovato dei bottoni Uno Due E tre Oh, che carino Ecco Infatti, vedevo qua delle scalette Vedete Ah, l'ho vista io No, l'hai messo dentro al mare Il gamberetto Il gamberetto Volete il gamberetto? Mangiare gamberetto Sofì, vuol gamberetto? No Brutti gamberetti Ma come brutti gamberetti? Brutti gamberetti A Sofì non gli piacciono i gamberetti Non li hai mai mangiati? Ma perché te sei legico a brutti gamberetti? Allora, dov'è il nostro L'ha lasciato dentro il nostro crampet? No, dai Portiamolo con noi No, ok Scusa Beh, ci sono piatti Non si apre Ah, sì, si apre anche piatti Ok Vai, tieniamolo in mano Intanto abbiamo già trovato il primo segreto E il codice non ci è servito Quindi forse quel codice sarà per un altro segreto ancora Esatto Ciao, l'avanti Qui cosa c'è? Ah, le divise! Ci cambiamo? Diventi chef? Ma vuoi fare la chef? Vuoi prima andare a vedere il ristorante e poi... Ah, con la tua... Vai, 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 il cappellone Bellissimo Aspetta Mettiamo lì Ecco Adesso possiamo girare tranquillamente Aspetta Laviamoci le mani Laviamoci le mani Benissimo Basta, poca carta Allora, salve Fa un assaggio qualità, Sofì Ah, qui è dove si preparano Vedi, questo è il pass Pulisci, pulisci Pulisci i piatti A non lasciare le dita a te No, no Mi raccomando Sembra la cucina di cannavacciuolo Sì, ecco la brigata Salve Un po' serio quello però Ma Annaggia È serio o è seria? È seria, non lo so Non lo so Boh, vabbè Quando lavorano sono tutti concentrati, eh Cos'è quello? È il... Il timer Il timer No, è il termostato Il termostato Pizza Sta a vedere, eh Dovinate che cosa succederà a quella pizza Tra 3, 2 e 1 secondi dopo che è stata messa per terra Oddio, aspetta Sofì è sparita Quel librone ma L'ha mangiato Oh, cosa succede Sofì? Cartone di pizza Però noi mangiamo la pizza Non importa il cartone Grazie E qui c'era la dispensa Il frigo, mi sa Che l'abbiamo già visto Forse gli occhiali ci potranno servire per qualcosa Con la valigetta La valigetta c'è un cacciavite Secondo me c'è qualcosa da scoprire Perché c'è un cacciavite Sì, sì Una chiave inglese Caccese Caccese Che è lì Dopo se ci serve torniamo a prenderlo Ok Dobbiamo andare al secondo piano ora Eh sì Iniziamo a salire Pronti? Lì Andiamo, andiamo, andiamo Vediamo cosa c'è 462 Ricordiamoci il codice Segreto Salve Guarda che carini questi qui sopra E sono gli animalini Un altro pistino testa qualità Perché essendo chef Sofì deve controllare Il mondo Questa è la critica Questa è la critica gastronomica Questo Sofì lo sapevo Che l'avrebbe fatto Guarda Lo spiedino cioccolatoso Aspetta Sembra Uno spiedino di frutta pieno di cioccolato Sembra della pupù No, assaggialo No, l'ha mangiato il crampet Vabbè, era buono Vabbè, poverino Che odore a mangiare, no? Signora, tutto buonissimo qua Guarda Tutto sotto controllo No, c'è un canetto Dov'è il canetto? Il canetto ha fatto la pupù dorata Ah, è interessante Ma è il cantante Quello suona Via, poi qualcuno che canta Beh Oh, c'è il barista Allora Mi sa che ci stiamo avvicinando All'ingresso del ristorante Barista Perché qui c'è il barista Che fa Determi cocktail Io credo sia Per un gelataio Ma come un gelataio? C'ha tutti i bicchieri Da cocktail dietro Ma guarda, un gelato Adesso vogliamo discriminare In base alla forma È gelato Aspetta Testa qualità Certo Abbiamo dato tutti i crissini Del ristorante Ma a parte quello Benissimo Ecco Salve Oh, qui c'è il bagno Ok Eh, l'ingresso siamo Qui ci sarà Salve Oh, guardaroba Controlliamo tutto, eh, Sofì Non ci facciamo sfuggire niente Mmm, molto bello Adesso cambiamo Siamo degli ospiti Wow, elegantissima, Sofì Qua c'è il mezzo Qui si entra Si dà il mezzo Il codice non c'è ancora servito a nulla Eh, dobbiamo scoprire ancora Chiudi il ripostiglio lì Il guardaroba Poi Lì facciamo l'aperitivo Lì c'è la critica gastronomica Qui si scuola Piono 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 C'è il piono Fa la musica Piono, piono Piono Ecco, è così La critica Tira su e giù Scorri, scorri Ah, vedi È l'intensità delle luci Ora è un ristorante da giorno Ora è un ristorante romantico Non siamo andati di qua Ah, la terrazza C'è qualcosa La terrazza Di nascosto precisamente qua Wow, champagne Aspetta Viviamo Eh, c'è il ghiaccio lì Sofì Ah, no Sembra La bottiglia Perché No, è alla carota È un meraviglioso succo alla carota Ok, ragazzi Qualcosa mi possa Questi quadri Sono alquanto strani Perché su uno c'è le posate E su uno c'è un coniglio Allora O è di Pasqua Oppure ce n'è uno che non Non ci dice niente La luce Dobbiamo Allora Io troverò il segreto In questo momento No In questo momento Eh L'ho fatto totalmente a caso Ah, ah, ah Il codice Com'era? 4, 6, 2 4 6 2 No Ci sono i piatti dorati Non mettere per terra Un diamante E tutte le posate dorate E anche i bicchieri Questo è per una cena Super mega lusso, eh Esatto Io sono lusso Allora rimettiamo tutto dentro Nascosto Mi raccomando 5, 7, 3 Ah, ma non era un quadro Eh, no Non era un quadro Pensavi fosse un quadro Sì, pensavo fosse un quadro No Invece era tipo una passaporte A vista La 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 Crazy Oh, porticino No, no Ce n'era Cos'è quello? È un R.V R.V Allora Domanda importante, Sofì Avete visto Ratatouille? Perché a Sofì piace? Tantissimo Questo è R.V Ta-da-da-da-da-da – Allora Questo è il ristorante di Remini No, facciamo la scena Vediamo, dai Allora, guarda, aspetta Quella dove è sotto il carrello Quella dove cuscina Quale vuol fare? No, questa qua, guarda Lui è qua sotto Fai Oh, devo prendere Ma cosa? Ma la critica stava mangiando la ratatuglia Cosa significa ratatuglia Sofì? Un ratto e tre intruglie Ma è bellissimo Noi ci possiamo fare un sacco di storie Ma perché c'hai il coso sulla testa? Allora aspetta Aspetta un attimo che devo fare un assaggio Anch'io signora Che sia di qualità ottima Ottimo signora Aspetti Ha mangiato tutto Sofì Aspetti Cosa fai? Dalla bottiglia Siamo al ristorante di lusso Buonissimo signora Non si può fare Non c'è la gelato? Si fa un altro coso Mi sa che dall'assù Sofì Guarda da lì Si staccano i coni Prova un po' Poi si mette le palline di gelato Prova un po' Aspetta Aspetta No mi è venuta un'idea Aspetta Aiuto Nooo La pallina di gelato è ricoperta di cioccolato Eh Sofì adesso fa un disastro L'ha messa insieme alla frutta Ha sbagliato Non la prugna Ora l'ha messo per terra Adesso lo ricopri di cioccolato E poi lo metterà per terra da qualche parte Prima di metterlo In bocca Lo sapevo Ma anche i mezzarone se si possono ricoprire il cioccolato Cioè quello funziona per tutto Quella Si Oddio Sembra un torto Il cristino Il cristino Vai a prendere il cristino La frutta Aspetta no 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 Questo 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 Cos'è il vassoio o no? Questo Cos'è quello? No Oh madonna Cos'è successo? Cos'è? Ma cos'è una bomba a mano quella? No Cos'è? Io ho paura Dalla la critica Il cristino Il cristino Niente il ricopro di cioccolato Ma sei un po' mollato però il cristino È diventato tondo Aspetta Anche questo Si ma un po' l'arrosto Guarda guarda aspetta La bottiglia Bevi Bevi Niente adesso Sofì Proviamo a trasformare il topino in cioccolato Topino No topino no Si può L'ho sporcato L'hai sporcato ma Il crampo No Guarda È ricoperto di cioccolato Adesso fai attento perché Sofì ti leccia Perché è un po' golosella Aspetta No così non ci viene Il piatto Di cioccolato Ho fossilizzato un piatto Ma lei se l'ha mangiato Gli rimane sullo stomaco Tra lei No male no Aspetta Voglio provare a fossilizzare tutto Adesso questo video finirà che Sofì mette tutto sotto il cioccolato Guarda Guarda le faccio una miscia Tadà In calderina Cosa sta facendo No ma lui non si può cioccolatare Non è No uffa Dai Sofì Però puoi metterlo dentro un bicchiere secondo me Prendi un bicchiere di quelli a calice Quali? Si quello Oh il cioccolato è sempre calice Vediamo un po' Si ricopre il bicchiere Oh il bicchiere Niente è diventata una palla di cioccolato E se lo mangia il cane Aspetta Ecco Ho un po' di cioccolato Niente Prima era d'oro Ma è di cioccolato È migliorato notevolmente Tadà Questo video Sofì sarà ricordato come il video in cui Sofì fa tutto di cioccolato Aspetta voglio provare Il menu Il menu Il menu Il menu Il menu Facciamo il menu Senti Sofì Dopo che hai fatto il menu Oh wow Guarda che figata Sembra una torre Dopo che hai fatto il menu Come lo chiami te Possiamo vedere se c'è Aspetta no Guarda adesso devi fare gelato Guarda guarda questo enorme Oh è diventato piccino Eh l'ha mollato Il menu è bellissimo Eh Guarda Come è diventato No una torre gigante A lei il menu A lei il menu Legga pure Cosa vuole al cioccolato Tutto al cioccolato Aspetta Ok Guarda mamma Vuoi sapere che cos'è questo Aspetta Cos'è Si serve prima del dolce Eh non lo so Che cosa si mangia prima del dolce La frutta Tada Ah tutta la zuppiera della frutta Non la frutta Aspetta il cappello 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 Mi sa fossi realizzato il cappello No Ma lo metto in testa No Il cioccolato non te lo puoi mettere in testa Dai Bellissimo Mannaggia Sofì Una le fanno nei combini Aspetta faccio il test a qualità L'anerello di cioccolato Ma come è andato di cioccolato A Sofì gli piace Oh ma ma scusa eh Che cos'è il mamma questa secondo te Eh questo è questo Eh un mappazzone direbbe qualcuno No guarda Tada Un anerello di cioccolato Tutto imbazzamato Yeah Senti eh Dobbiamo ancora andare avanti tanto A cioccolatare tutto il possibile Aspetta aspetta Mi faccio un sorso eh Mmm buonissimo Oh mi è venuta l'idea Aspetta Quattro Sei Sei Due Adesso trasforma il diamante Più La cosa più bella in assoluto In cioccolato Il malloppo di cioccolato Che è successo? È diventato È diventato una polpetta di cioccolato Aspetta ora lo rimetto qui Non ci sta Cioccolatoso Allora Sofì Dimmi una cosa Sì Ti piace questo nuovo mondo? Soprattutto Chissà perché Eh che adesso ci si mette lei Sotto la fontana di cioccolato Posso sporcarmi? Il sogno di Sofì sarebbe fare il bagno In una vasca di cioccolato Sì può Eh? Però posso fossilizzare tutti i miei sogni Niente tutto quanto Adesso non mi ascolta più Perché lei deve rendere tutto quanto di cioccolato Anche il carrello di cioccolato Aspetta aspetta posso rendere Il carrello di cioccolato? Eh Sofì Possiamo terminare La tua trasformazione Di tutto quanto in cioccolato Come il re Viglia Trasformava in oro Tutto quello che toccava Sofì trasforma tutto in cioccolato Bellissimo È il super potere Eh? Super Sofì Trasforma tutto in cioccolato Ok ho finito Senti Siccome ci sono tante radio Possiamo vedere se c'è qualche musica Ok aspetta Eh ma questa non va bene Con una scena romantica Io non mangerai tranquilla Con questa musica eh Sofì Sicuri? Sei un po' spavento così Ok Sei un po' grande Adesso non ci faccio Ci faccio una cosa drammatica Va bene vediamo Grazie a te Il topo Il topo E poi sbocciano i fiori Cosa c'entra a fiori? Niente Siamo entrati in un sogno bucolico di Sofì Tranquilli Tutto sotto controllo Adesso gli do la pasticchina Sta meglio Sofì Sofì Ho la tua pasticchina Per stare meglio Ok ho finito Ma ci volevo una musica Da ristorante stellate Aspetta Che sei là? No dai Va bene Ma aspetta Adesso mi porta a ballare No Ma non è un club di ballo È un ristorante Aspetta Adesso si va a capare la scena Mi vuoi sposare? No è Mi vuoi sposare Mi vuoi sposare Aspetta Mi vuoi sposare? Sì certo Ma prima non mi da bere Versione brutta Questa Poi Mi vuoi sposare Sì ti voglio sposare Sì ma anche meno Sì ma anche meno eh Un po' più tranquillo Ora li mandano fuori Perché il ristorante Alla moda Sì quindi noi ordiniamo Un Rattaccio Di più No mangiare Non mangiare Non mangiare No Mi vuoi sposare? Ma che cos'è? Un cosino di cioccolato? No è una rete Però è una bella sorpresa Per fare la proposta di matrimonio Voi intiastricciate Tutto la donna Con il cioccolato E poi lo date alla vostra Futura moglie Il futuro marito È il ballo del team ciugatti Presto Imparatelo Allora Questo è per sei Uno due tre Quattro Cinque Se Il secondo è Con le zampette Mi raccomando Ballo del team ciugatti Zampette Niente adesso Sono sempre più convinta Sofì che dovremmo fare Un video Solo di balletti di Toca Delle musiche di Toca Sarà contento Quello che in Toca Si occupa delle musiche Perché noi ci vediamo Sacco già Ottime musiche Signore Chi sarà stato Da avvelenare un piatto A far morire Maria Luisa Nessuno Maria Luisa è morto Soffocata E ragazzi Spero tanto Che questo video Vi sia piaciuto Mettete like Iscrivetevi al canale E alla prossima Aspetta 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 Che far Ripa E ragazzi Spero tanto Che questo video Vi sia piaciuto Mettete il like Iscrivetevi al canale E ciao Guardate Il balletto Del team ciugatti Vogliamo vedere i vostri video Dove ballate il balletto Del team ciugatti Sofì Dai che li ripubblichiamo Ciao 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 Grazie a tutti.